Questa è la sede prescelta per un grande evento di sport, quale la finale nazionale dei campionati studenteschi 2022 di Atletica Leggera. Sarà lo scenario dello stadio triatico Giovanni Cornacchia dal 29 maggio al 2 giugno ad accogliere circa 1600 atleti provenienti da tutto il paese. I campionati promossi e organizzati dal Ministero dell'Istruzione, ufficio scolastico regionale settore sport, rappresenta un'altra grande opportunità promozionale per il capoluogo adriatico che di recente ha già vissuto un momento di rilievo con l'arrivo e la partenza di una tappa del Giro d'Italia. Il Ministero dell'Istruzione ha voluto fortemente questa manifestazione dopo due anni di pandemia. È una delle più grandi, forse l'unica manifestazione a livello numerico per quanto riguarda i partecipanti. È un segnale importante di ripartenza per noi e per il mondo scuola non è soltanto un aspetto tecnico e sportivo ma un aspetto sociale e di inclusione. Queste sono le realtà nostre. Sicuramente anche l'aspetto sportivo sarà importante perché voi immaginate che a livello nazionale siamo ripartiti con l'attività sportiva scolastica a marzo e oggi ci ritroviamo a fine maggio a fare una finale nazionale veramente, io penso anche di alto livello tecnico e agonistico. Due settimane fa abbiamo avuto la grande notizia. Dopo tutti questi grandi eventi sportivi non poteva mancare la finale nazionale dei campionati studenteschi di attività di cara leggera. Avremo la possibilità di ospitare 1600 ragazzi provenienti da tutto il territorio nazionale ma soprattutto avremo 350 ragazzi diversamente abili. Una grande avventura per la nostra città ma sicuramente pronta ad organizzarsi nel migliore dei modi e dare il giusto supporto a queste grandi manifestazioni che rappresentano la nostra città e il nostro futuro.